gioia sport.com il blog dello sport gioiese il blog sportivo della tua città. Eh beh è vero sì noi siamo già al lavoro chiaramente non lo eravamo già da tempo per preparare la nuova stagione sportiva perché è chiaro che i campionati nel momento in cui si riescono ad avviare poi eh riescono ad andare avanti quasi da sé per come chiaramente è strutturato il calcio direttantistico eh stiamo pensando già chiaramente alla nuova stagione lunedì abbiamo un incontro col consiglio direttivo per concludere così gli organici di eccellenza e promozione che sono i nostri campionati d'elite e che mi auguro possano eh concludersi anche nella prossima stagione così come si sono conclusi nella stagione regalando grandi soddisfazioni tra l'altro a grossi centri perché hanno vinto i campionati centri importanti come Acre che è ritornato in interregionale dopo tanti anni e come lo stesso Gioiosa come Siderlo sono tutti i centri che chiaramente eh hanno regalato in passato calcio una tradizione calcistica importante che adesso piano piano si stanno riaffacciando gioia sport punto com il blog dello sport gioiese il blog sportivo della tua città no 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 Grazie a tutti.